Pescara ha il 71esimo posto nella classifica sull'accessibilità e vivibilità delle città italiane per persone disabili. È il dato che emerge da un'indagine curata dall'ANMIL rilanciata da Confartigianato Pescara, secondo cui il capoluogo adriatico deve essere una città moderna e turistica per tutti e per essere tale deve avere innanzitutto una qualità della vita e della mobilità che sia almeno sufficiente. Confartigianato chiede un protocollo d'intesa tra comune e associazioni di categoria per favorire l'installazione di rampe, scivoli e campanelli per tutte le attività commerciali, snellendo quanto più possibile gli aspetti burocratici e di relativi costi. Inoltre chiede la creazione di percorsi turistici a barriera zero adeguatamente pubblicizzati sui portali dell'amministrazione, un incremento dei parcheggi per disabili nelle zone centrali della città, un uvero verde per poter richiedere un taxi abilitato al trasporto carrozzine e una programmazione delle corse degli autobus che garantiscano mezzi adeguati. Solo così, secondo l'associazione di categoria, Pescara potrà essere una città per tutti, una città dello shopping che aumenti il fatturato. Fondamentale per questo il ruolo della Polizia Municipale affinché ci sia una lotta senza quartiere contro chi approfitta della disabilità. La Confartigianato infine auspica un nuovo regolamento COSAP ed edilizio che faccia della legge 13 nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche il suo cavallo di battaglia.